Incontro tra l'assessore allo sport del Comune di Cosenza Carmine Manne e i rappresentanti di associazioni e centri sportivi operanti sul territorio. La riunione si è svolta nella Sala Quintieri del Ridotto del Rendano, un fatto del tutto nuovo nel corso del quale l'assessore ha raccolto le istanze dei gestori degli impianti facendosene carico. Sono fortemente soddisfatto perché tutti gli operatori che gestiscono gli impianti sportivi di Cosenza erano presenti. Un dato importante, penso che la politica prima di decidere eventualmente sulle varie dinamiche future, come si vuole procedere, è importante capire ed ascoltare le loro esigenti, indipendentemente delle varie idee che ognuno di noi abbiamo. Penso che questo sia un inizio positivo perché l'amministrazione comunale vuole stare vicino agli operatori perché ritengo lo sport sia un volano, sia turistico, sia come aumento della qualità della vita, sia come un'aggregazione sana competizione dei nostri figli che frequentano i nostri impianti sportivi. Ma le difficoltà non sono poche seppur l'assessore ha le idee chiare. Ritengo che la cosa importante è che ci siano le idee chiare. Dopodiché con le idee chiare e una giusta ed equilibrata programmazione sono sicuro che riusciremo a dare delle risposte maggiormente rispetto a prima.